E per colpa tua o per colpa di circostanze, perché a volte succedono anche cose, sapete che si fa il muoio a Sansone con tutti i filistei, ti sei trovato nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, ci sei passato di mezzo anche tu, tutta la vita sei stato fedele, hai fatto uno sbaglio, hai perso il credito. Altri non hanno mai fatto un tubo, hanno fatto una cosa giusta, nel momento giusto e sono stati visti dalle persone giuste e sono dei campioni per l'eternità. Ma questa non è la giustizia di Dio, questo è quello che dice la Bibbia, che spesso i principi vanno a piedi e i servitori a cavallo. È vero questo? E la vera giustizia di Dio sarà nel nuovo mondo, miei cari fratelli. Oggi è tutto su base temporanea e a volte parlare di tante cose non serve nemmeno a chiarire. Anzi, ci si espone ancora di più alle critiche e ai pregiudizi altrui. Bisogna continuare a lasciare le cose nelle mani di Dio. Allora, forse volevi fare il pioniere e non ci sei riuscito, forse volevi continuare a essere un anziano, attualmente non lo sei, o servitore di ministero, forse è stato disassociato tuo figlio e ti dispiace tanto e non hai mai capito perché, sa perché non si capiscono quasi mai queste cose e non avvengono mai in maniera, diciamo, indolore. Mai. Non ho mai visto una rimozione indolore e una disassociazione indolore. E questo fa parte della nostra natura imperfetta. Però, miei cari fratelli, questo non significa che questa non sia la verità. Questo significa solo che siamo talmente imperfetti che la teocrazia oggi funziona alla belle meglio, ma non funziona perfettamente. Perché, vedete, la teocrazia, cioè il governo, è perfetta ed è basata sull'amore, ma purtroppo è applicata da uomini e donne imperfetti come noi. È come avere una ricetta per una torta meravigliosa, ma gli ingredienti sono scarsi. Quale sarà il risultato? Bah, scarsino. Bah, comunque mangiabile. Ma pensate al nuovo mondo quando sia la teocrazia che noi saremo perfetti, beh, la teocrazia l'ho già oggi, che risultati meravigliosi. Questa non è la vera vita. Questa è una vera presa in giro, miei cari fratelli, è la bozza. Qual è la vera vita? Quella che ha ad avvenire. E quando è che Dio soddisferà il desiderio di ogni sua creatura a piacere? Nel nuovo mondo. E allora? Ma ormai siamo arrivati, cosa stai a preoccuparti? Come diceva quel vecchietto, fratello, simpaticissimo, mi ricordo più la regione in cui lo incontrai e una volta mi disse, Giorgio, ricordati questo vecchio proverbio. Se fossi, se avessi e se potessi, erano tre fessi e non aveva torto. Fesso significa stanco dal latino, non è una parolaccia, ma intendo dire, è inutile che ti manca, fai quello che devi fare. Tra l'altro, quello che a me conforta moltissimo è che in Giuda 21, che si parla del favore di Dio, vi ricordate cosa dice Giuda 21? È un capitolo unico, il versetto 21, mantenetevi nell'amore di Dio. Non dice mantenetevi gli incarichi, i privilegi, no, quelli si vanno e vengono, come la salute e come il favore degli uomini e come la simpatia, vanno e vengono. E poi siamo tutti simpatici, ma non a tutti. Questo è il problema. Però il problema è che queste cose sono su base temporanea, saranno permanenti nel nuovo mondo. E io spesso rifletto su una cosa che mi ha dato sempre soddisfazione, quando l'ho capita. Guardate che capiamo delle cose carine, grazie allo schiavo fedele e saggio. Non ho più tempo, vabbè. Però quando io insieme a voi abbiamo scoperto una cosa bella, il nuovo intendimento a proposito dei principi del nuovo mondo. Vi ricordate questo nuovo intendimento? Una volta si diceva che i principi nel nuovo mondo sono gli anziani di adesso. No, meravigliosa, meravigliosa conclusione che è stata spiegata ora, più chiara. No, perché la Bibbia dice che i principi del nuovo mondo li nominerà direttamente Cristo Gesù. Allora vedremo chi sta ai piedi davvero. Chi ha il favore davvero di Cristo? Io sono convinto che a causa della nostra imperfezione ci sono dei fratelli preziosissimi che non siamo in grado di valorizzare, viceversa. E la graduatoria, la hit parade del cielo, non è la hit parade della terra molto spesso. E allora te che stai a preoccuparti? Più, giocati la vera vita. Adesso persevera e continua a fare quello che dice Giuda. Mantieniti nell'amore di Dio. Vivi per rallegrare il tuo creatore. E questa è la conclusione di questo discorso, che come morale spero sia aggiunta a tutti noi. Quali sono i due motivi principali di scoraggiamento? Rimuginare sulle ingiustizie o essere frustrati a causa della sorte nella vita che noi pensiamo di non meritare o che avremmo voluto avere diversa. È tutto temporaneo oggi. Ci giocheremo la bella, grazie a Dio, e lì le cose saranno giuste, permanenti ed eterne. Oggi bisogna ragionare come il fratello Bill Muleyne, William Muleyne. Trovate la sua esperienza nel broadcasting del settembre 2021, oppure andate sul nostro sito e cercate dove sono oggi. Sapete che ci sono delle esperienze, i fratelli di cui si è parlato negli anni passati, dove sono oggi. E c'è il video, i pochi minuti, di questo fratello, William Muleyne. Allora, lui era un giovane musicista, rocchettaro, chitarrista, con i capelli lunghi, che conobbe la verità da giovanotto. Dopo poco fece progresso, si battezzò e andò alla Bethel. E lì ha passato tutta la vita, diventando un uomo anziano. Non ha mai lavorato per la musica, perché la musica fosse tutta la sua vita. Ed è spesso così, nella vita, che quello che piacerebbe fare a te lo fa un altro e viceversa. Dobbiamo accettare quello che c'è da fare, non quello che piace a noi. Comunque, alla fine, da vecchio, finalmente lo hanno messo nel reparto audio-video. E dirige anche l'orchestra, perché è bravo. È un musicista fatto, di talento. Notate però le conclusioni a cui giunsi. Io voglio finire con queste due brevi frasi nella sua parte conclusiva della sua esperienza. Come vi ho detto, la ritrovate. Allora, la prima frase che mi ha colpito è stata questa. Dice questo fratello, Proprio come si accorda uno strumento per poterlo suonare, così Geova fa con noi. Ci insegna a dare la giusta priorità alle cose e a mettere lui al primo posto, perché lo merita. Quando lo facciamo, vediamo tutte le altre cose dalla giusta prospettiva. Bello l'esempio che fa da chitarrista, lo strumento che deve essere accordato. Sapete, la chitarra è uno strumento che va accordato ogni volta prima di suonarlo. Non è come il pianoforte che lo accordi ogni tanto. No, no, devi accordare continuamente la chitarra. E così Geova dice, sta facendo con noi. Oggi Geova ci sta accordando in vista del nuovo mondo. Cosa succede quando si accorda uno strumento? Che le prime note sono stonate, è vero? Poi raggiungi la nota piena, poi vai all'altra. È vero? Chi di voi lo fa o lo sa fare, mi capisce. E allora che succede? Siamo qui che Dio ci sta accordando che una volta stecco io, una volta stecchi tu, una volta stecca lei, una volta stona lui. È normale, ci sta accordando. L'importante è che non ci preoccupiamo tanto delle stonature, ma lasciamo a Dio fare il suo lavoro sul nostro cuore, addestrandoci in vista della vita eterna, come ha fatto questo caro fratello. E infatti conclude con questa bella frase. La felicità non dipende dal lavoro che facciamo. La vera felicità dipende dalla nostra spiritualità e dalla nostra amicizia con Geova. Questo è lo scopo della vita, ed è una vita fantastica. Queste sono state le sue parole letterali. Così, miei cari fratelli, non vi scoraggiate mai. Continuate a rallegrare il cuore di Geova per avere la forza di sopportare qualsiasi disagio. Non rimpiangete il latte versato. Non rimuginate sulle ingiustizie. Fanno parte della temporaneità di questo sistema di cose. Non pensate di avere perso qualcosa. Dio soddisferà ogni legittimo desiderio del vostro cuore, ma nel momento giusto e nel tempo giusto, cioè il nuovo mondo. E oggi continuate ad impegnarvi affinché la gioia di Geova sia la vostra fortezza. Grazie. 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 Grazie.